Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars Allora, siamo qui perché intanto voglio far vedere la partita delle 500 coppe E poi andremo a farmare un po' di coppe, ci andremo ad aprire un po' di mega casse E andremo ad aprire i premi che abbiamo Siamo quasi a 8000 coppe per questo video, vi chiedo altri 15.000 like per aprire 10 mega casse Sono qui con il signor Jack Bella ragazzi Sono qui anche con il signor Forno a legna Bella H. Seer God, che sarebbe praticamente il primo del clan Sei ancora il primo del clan, Seer? È ovvio E ancora il primo insieme a Luigi Sono gli unici due attualmente sopra le 12.000 coppe Sotto abbiamo i vari CGA, Dade, Noname che sono tutti sopra le 10.000 Questo ragazzi è il nostro tag clan Potete fare la richiesta, purtroppo attualmente siamo full I trofei minimi per entrare sono le 8500 coppe A fine aprile ci sarà un rinnovamento Quindi ci sono tutti gli under 8.000 verranno espulsi E ci saranno una decina di posti disponibili Come potete fare la richiesta, magari qualcuno esce Poi potrete entrare Questa ragazzi è la partita delle 500 coppe Che ho giocato non con il signor Jack Ma ho giocato con Seer God E un altro top player del team Perché Jack è fondamentalmente scarso Ma ci stavano Vi faccio vedere che cosa è successo Ce la farò, secondo te Seer? Secondo me no Sto giocando con The God e Seer God Vediamo se riusciamo a portarci nel 500 Forza God ti voglio bello aggressivo Poi è la che sarà il bloccato principale oggi Quindi Oh God mi raccomando questa è la partita più importante di sempre Ma ce la faremo sicuramente Oh non trovo le partite Questo vuol dire che Ecco quindi troviamo qualche maxato Abbiamo anche una squadra contro Bannaggio Attenzione Stormi va a sinistra con le ore Ragazzi purtroppo Purtroppo The God Non lo sentiamo Ne sciolgo Dai ragazzi questi qua Sono dei dei rincoglioniti Ce la possiamo fare Ma che se non lo sentiamo Sicuramente più forte di Jack Vabbè chiaramente Non è che ci vuole molto Ragazzi vado su Shelly Attenzione Ragazzi io devasto Poggio Guarda che scherzo Stormi Ma io mi tengo la destra Non ci spugli qua Puoi morire da una Shelly con la star power Senti sette zitto Che so Leone Appena appena ieri Shelly mi devasto Ma tu sei leone Sì ma che c'entra Guarda Che che è Cos'è sta roba Guarda quella sta Aspetta Guarda non riesco a fare niente Guarda me non passano Perché non mi vede mi devasta Vai vai a sinistra Poca Poca a sinistra Cazzo sono morto Stattara che sta carriando Guarda che The God È un buon Buon player Sicuramente è molto meglio di Jack Sicuramente Provo ad andare sulla destra Vedo se riesco a fare Attenzione Fai fuori il mortaio Prende gli schiaffi Porco due ragazzi Ma vengo sciolto Stanno un attimo massacrando Non riesco Difficoltà a salire Devo riusci Bisogna di recuperare Vai che sarà Vai che sarà La carriata GG Andiamo Buonissima Quell'ulti Andiamo La partita è decisiva Adesso non mi vediamo Dai ormai è vinta No Si devi stare zitto Quanto è stato efficace Il storm in questa partita Lo 0% Vediamo che è migliore 500 coppe Con Leon Sir God E ragazzi Però questa volta abbiamo trovato 9-6-10 Questa volta abbiamo avuto Si E' una buona scarsa A favore noi 500 coppe Grado 20 Mamma mia ragazzi Questo è il mio secondo Brawler Al 20 Questa è la mia situazione Attualmente Sono a 7.736 coppe Leon appunto L'abbiamo portato al 20 E non posso più giocarlo Senza la star power L'altro brawler Che non posso più usare E Jesse Ho provato a giocarlo Però avendolo al 6 Senza star power Comunque non maxato Difficile già giocare Quindi ho droppato 19 coppe E non lo utilizzerò più Ho fatto salire Come avevo promesso Eugenio L'ho fatto salire Al 15 Circa 300 coppe Però è talmente forte Sul brawler Che posso portarlo tranquillamente Questo qua Alle 500 Probabilmente sarà il prossimo In questa mappa Utilizzerò spike Però Per questa mappa E' ottimo Penny E tutti i lanciatori Quindi Bombardino e Dynamite Ciò vedere Qua mi manca ancora appunto Mortis e Tara Che sono i due Che mi dovrebbero far arrivare A 10.000 coppe Ma oggi devo trovare Mortis Non lo troverai È mio Vediamo se nel negozio c'è No non ce n'è neanche nel negozio Posso trovare solo una cosa qui Se non Mortis 92 monete Posso trovare qualcosa o no Non posso trovare niente No 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 Non devi avere 4 Dynamite Frank 30 Andiamo ad aprire qualche mega cassa Ragà Adesso ce ne apriamo una E dopo alla fine video Ce ne apriamo 4 o 5 Devo trovarlo Su cazzo di Mortis Per forza Questo è il momento ragazzi È il momento di trovare Mortis Di naso Di naso Ti prego Oh 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 No 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 Era 5 Era 6 Era 6 No È da un po' È da un po' Che era la prima mega cassa Cavolo Primo lo portiamo su Bull Che in sta mappa è molto forte Jesse Frank Attenzione 5 gemme 5 gemme Onesto È qui È qui dentro Lo trovo adesso ragazzi Nel prossimo video Ci andremo a aprire E a comprare Direttamente il mitico Che ci manca Porco 2 Che sfiga Pam Piper Dynamite 26 Nita più 27 Jesse E 4 ticket Buono Silgod Tu che hai tutti al massimo Tu come trovi brawler Pregare tanto La mattina Prima di alzarsi Esatto Io ormai li ho tutti Ah quindi solo a livello utilitaristico Fai le preghiere Esatto Ma perché quel coso non muore Mi stanno devastando ragazzi Io sto andando al centro Solo per prendere la ultimate Ma perché devi usare quella merda di personaggio Portissimo Guarda Guarda come te la carri E si vuole far vedere la skill Che non ha capito Oh L'ho ucciso Vai 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 Via tutto Oh 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 Attenzione Distrago pocio No Sirgo Forno Distrai pocio ragazzi Forno piazza quello Sì L'ho già piattato Dove? Dove stanno? In destra In destra Come cazzo parli Si cosa Attenzione 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 Bravo jack Bravo jack Vai vai Mamma mia Jack ma come sei forte Ma come fai ad essere così forte Mi insegni Sono fortissimo Mamma mia ma sei veramente forte Mi sono fatti 3 3 Fresh Too clean Pulita questa vittura Stai parlando con il più forte al mondo Con chi ad utilizzare carla No no in generale Con tutti i brawler ok Se riesco a far qualcosa a questo personaggio Più che altro Gira gira Tu gira Ma è inutile qua Dici Per me si Guarda 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 come lo devasto mo Guarda 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 vedi 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 che non mi trusti Vedi che nessuno mi trusta in questo team Nessuno mi trusta Nessuno mi trusta Nessuno Dico Mamma mia ragazzi Faccio il Io sono main nel primo ve l'ho detto Mi è pazzo Ma sei affermato Una visione No aiuto No Ah god Trolli anche tu Trollarino Ma è stato agli in testa Schifoso pezzo di me Ragazzi c'è l'ultima gemma Prego forno Non fare il fallito Devi stare zitto Sta arrivando leone invisibile Stiamo vicini Stiamo vicini Stiamo vicini Guarda guarda che ha parlato Eccolo qua Citto Non mazzoni tutti Come contro la rovescia Ma come ancora Sono morto io stormy Ma sei un fallito Stupido Balliamo Ballamose Stupido leone Cosa avevo detto io Chi è il main Mamma mia Non ho mai visto un ulti Te lo dico Mai visto una tua ulti Che gli sciolgo quando vuol Mai Guardate guardate lo sta fermo Guarda che non si può E dovevo riavviare la Ci fa fare tutto a noi Devo riavviare la fotocamera Mamma mia Le scuse ragazzi Sentitelo Non le capisci queste cose Guardate guardate Arrivo io Arrivo io Arrivo io Guardate faccio Faccio pentakill Vai pentakill Che sono tre Esatto Porco due Dai ti prego Voglio fare pe- No No Avevo la tripletta in mano Ragazzi Cioè voi pensate Nelle mie mani Uno star power Ragazzi c'è questo bombardino Che non so più dove andare Ragazzi ci sono questi bombardini Che hanno veramente paura di me Tanto tanta paura No sta bene Dove a sparire Vai Jack È il momento dello sfogio Scappa forno Aiuto Spara Mamma mia Mamma mia È lui È lui Eccola È tutto sotto controllo Devi stare zitto forno Tu porti Porti una sfiga Eccolo 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 Il trottolina Fa tutti lui Porti una sfiga della madonna Questa la devo carriare da solo Dai Giocatori 6 di 6 Questo vuol dire Troveremo i maxati Che si sono scarsissimi Questo perché Ragazzi noi stiamo giocando con un 12 Un livello 12 mira Scarsissimo Se non sbaglio ho detto Sono il più scarso in Italia Non il quarto in Italia Una cosa del genere Ho detto che con Carl Sono secondo in Italia Il 43esimo al mondo È partita la trottolina No Sir God Come fai a fare un errore così madornale Oh mio dio Faccio il trottola Jack Prendi il tuo Ti prego Prendi il tuo Bravissima C'è la loro Penny Che è in dubbio Dulla sua eterosessualità Buona Fatto Fatto Ragazzi è partito È partito Mamma mia ragazzi Mamma mia Che ulti Veramente da Non ho mai visto Un è il primo così forte In vita mia Lo giuro Vero 43esimo in Italia No ma quello contro Dico Tutte le partite che abbiamo vinto È il primo e sempre migliore Questo è il momento Di trovare qualcuno Perché altrimenti Io alle 10.000 coppe Non riesco ad arrivarci Perché ci gioco solo da dicembre 260 merdate 260 merdate Stecca Bull più 12 Carla più 21 Dynamo più 44 Ragazzi questo è un più 60 Allora Più 45 Però abbiamo anche Delle No 8 casse Ci possiamo prendere Con questa roba Ma secondo me ragazzi Qui dentro Ci troviamo Il nostro brawler E l'ultimo episodio Mi hanno trovato Carl Alla prima cassa Questo è il momento Di trovare un cazzo di epico Sicuro Posso trovare qualcuno Con tre No Are you sure? Ma davvero Non c'è nessuno Ragazzi io mi sento un po' male Si devi darmi il trucco Per trovare il brawler Comunque prova di Di gomito Lo trovi sicuramente 5 Sono sempre 5 Le oggetti Sempre 5 Mamma mia che vergogna Ragazzi Non si può più trastare Questa gente Con tutte le segote 41 No lo puoi portare sopra E il primo 50 E che porta bene il gomito L'ultima dei nastri Però 157 d'ora Vuol dire Attenzione Vuol dire Vuol dire che è buono Parte altissimo 26 Ma perché mi stai prendendo Il culo Jack Più 90 Di un personaggio Inutile Allora possiamo far salire Brock all'otto Poi abbiamo Carla Possiamo farlo salire Questo lo facciamo salire Che è abbastanza forte Franchino Questo dopo lo facciamo salire E anche Pam ragazzi Tra poco si sblocchano No vado salire subito Franchino 140 Ci sblocchiamo le star power Ragazzi tra poco Ci andiamo ad aprire però ragazzi Altre due mega casse Devo trovarlo Sto cacchio di Mortis So di Tara Non è possibile Brock Il primo Franchino Jesse più 40 Che tanto non uso E un pacco di Tutti su con le mani al cielo Ma un sacco di gente L'ha trovato comunque Il brawler Con tre oggetti 20 di leo Ti prego No Poggio Due bonus Ticket E 200 Guarda come La vedi La vedi che la cassa La vedi come È in fibrillazione Questa cassa Come si muove Vuol dire che c'è per forza Qualcosa dentro Antelle Cosa 10 GM Questa era la cassa giusta Ce ne apriamo un'altra Ma io mi giro E non voglio vedere 3 2 1 È crashato tutto È crashato Non so quanti oggetti Rimasti ci siano Però 4 Ragazzi questo vuol dire Che possiamo trovare qualcuno L'ultima L'ultimissima L'ultimissima Poi basta Giuro che mi fermo Ragazzi Credo che sia giunto il momento Di bestemmiare Non farò mai più Una cosa del genere Quindi io vi ricordo Di non shoppare troppo Su questo gioco Perché come vedete Ho shoppato Credo 500 gemme Se non di più E non ho trovato niente Non lo farò mai più Quando uscirà Ovviamente Mortis e Tara Nello shop Direttamente da comprare così Ovviamente conviene sempre Comprare direttamente Quelle gemme A meno che Non siete nella situazione Di Sir God Che il brawler L'ultimo che vi rimane Costa 3000 gemme Mi ringrazio Jack Mica tanto Per quello scarso Sono il più forte ragazzi Mi ricordo Di lasciare un commento Io sto con Jack Mi raccomando Mi ringrazio anche Il signor Sir God Grazie a lei Mi ringrazio per aver visto Questo video Cliccate sulla campanella Per trasformare questo canale In una chiesa Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo In un prossimo video Woo In un prossimo video In un prossimo video In un prossimo video